A me fa particolarmente sorridere come tutti parlano di Juventus e noi cerchiamo, non rispettando quella che dovrebbe essere una regola normale dove ognuno guarda in casa le sue problematiche piuttosto che le sue qualità e si dimentica degli altri, quindi rispondo a te e poi non rispondo più a nessun'altra domanda su chi ha detto cosa della Juventus, io rispondo della Juventus, gli altri pensino agli affari loro, Allegri ha avuto una battuta, il Milan avrà due stelle.